Allora ragazzi, bentornati nel mio canale, siamo tornati qui per parlare di Dragon Ball però ho un problema e la mia applicazione continua a darmi i problemi, mi mangia i video, avevo fatto un'altra 800 stone quindi niente, io mi metterò il video senza montarlo, sarà un po' noioso, senza audio, perché merita, sono 3 video vedrò di risolvere il problema perché comunque mi sta dando fastidio sta cosa, e sì, ho pullato l'LR quindi potete vederlo nel video, caricherò questo, caricherò il prima Veget, poi Gogeta, poi Ticket mi dispiace solo dirvi che comunque sarà un po' noioso, perché sono 400 stone e 400 stone, senza audio, senza niente, è un po' una palla quindi ragazzi, grazie mille di tutto e buona visione